Ciao mamma! Ciao Serena, ciao! Ma tu ancora così stai? Guarda che c'è Mariolina! Sì, l'ho vista, ciao Mariolina! Ciao! Senti, ti devo dire una cosa. Oddio, lo sapevo. Se volete me ne vado. No, no, una cosa bella, rimani. Dimmi. Mi hanno ripescata. Ma dove? Da Stanford. Quello davanti a me nella graduatoria ha rinunciato, quindi... Ma cos'è Stanford? Ma come che cos'è Stanford? È una delle università che ho scelto, una delle migliori al mondo. Che brava! Sì, ma perché non me l'hai detto prima? Eh, perché sta in California. Tredici ore d'aereo, per questo non te l'ho detto. Ma perché tu devi andare lì proprio fisicamente? No. Ah. La faccio online. Ah, certo. Anzi, adesso li chiamo subito per dire che non vado. Non posso, mia madre ha paura di volare. Va bene. Oddio, che giornata! Devi lasciarla abituare un po' a quest'idea, no? Speriamo. No, ma insomma, ma perché così lontano? Ma a me non ci pensi, ma io che faccio? Io, 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 sempre io. Ma tu ci pensi che questa è la mia vita e non la tua? No. Ma no ma ma way back home at last.